Eccoci, bentornati su GoGames, siamo su God of War Ragnarok e in questa video guida andremo a vedere un'altra missione secondaria. Siamo sempre nel cratere Avanheim, in questo esatto punto, nel caso non sappiate come arrivare qui basterà seguire la video guida precedente, link in descrizione e nel primo commento. Quindi come al solito fate tutto quello che faccio io e non avrete problemi a risolvere tutte le missioni secondarie che ci sono qui. No, sei tu, cervo. Ti vuoi dare una mossa? Quindi le tracce arrivano qui. Go! Tracce di Draco. È ciò che temevo. Con un Draco a divorarne la pauna, tra qualche inverno questa terra sarà deserta. È una... gabbia. Così sembra. Città delle possibilità. Ah, un altro cristallo. Meglio conservarlo finché non scopriremo come usarlo. Città delle mani e non c'è. Città delle mani e non scopriremo além di farlo. Città delle mani e non scopriremo. A destra! A destra! Inchiudi la creatura, attirerai il grano. A destra! Dietro di te, occhio! Che brutto colpo! Stai bene, fratello? Dietro di te, occhio! A destra! A destra! Loro dovrebbero entrare e poi ritirando l'ascia a noi, li chiudete all'interno per mandarli su e triggerare il drago che arriverà. In questo caso, e mi succede sempre così, non ci si può fare nulla, loro non entrano, è come se avessero un muro invisibile. Quindi dovete chiudere la gabbia, come ho fatto io, cercare di aprirla da fuori mentre loro vi malmenano e sperare che entrino dentro. Ora, normalmente me ne entrano due, a suo giro ne è entrato solo uno. Vediamo se è sufficiente. Ok, ne basta anche solo uno, perfetto. Non l'avevo... Ok, adesso andiamo alla tana del drago, perfetto, non l'avevo mai provato. E bisogna avere pazienza, se vi si bug anche a voi, dovete fare per forza di cose così. È una rottura di scatole, ma l'importante è che ne entri uno. Ora possiamo andare avanti. Non ci vediamo tutti i voi. Ok. Sì, sì. Buon appetito! E un bel dolce? No Attento alle squame E un bel dolce? Indietro! Abbiamo interrotto il suo pasto Detto questo, giovani, come al solito vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutte le prossime uscite che arriveranno. Lasciate like se vi è piaciuto il video, commentate se avete consigli o se volete dei consigli. Vi ringrazio per averci seguito e ci vediamo alla prossima! Vi ringrazio per averci seguito e ci vediamo alla prossima! Vi ringrazio per averci seguito e ci vediamo alla prossima! Grazie!